Ci sarebbe un nesso di causalità diretto tra il colpo ricevuto, la caduta a terra e la morte di Marino Gallarotti e quanto stabilisce la relazione del medico legale Elena Barbero, incaricata dalla procura di effettuare l'autopsia sul corpo del 74enne. Per questo motivo il PM Gianluca Periani ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Omar Piccoli, 24 anni, difeso dall'avvocato Gabriele Pipicelli, che ora dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Il GIP ha già fissato la prima udienza del processo di fronte alla Corte d'Assise per il 15 febbraio. L'avvocato difensore avrà ora tempo di chiedere riti alternativi. Gallarotti era stato colpito dal giovane che attualmente è in carcere perché si era intromesso in una violenta lite tra Piccoli e la ex fidanzata di fronte al Circolo di Nonio lo scorso 10 maggio. Era caduto a terra e non si era più ripreso fino alla morte avvenuta a Novara lo scorso 28 settembre. I familiari della vittima si sono rivolti all'avvocato Cristian Ferretti. I fatti del 10 maggio saranno anche al centro dell'udienza di domani nel processo che vede Piccoli accusato di stalking nei confronti della ex fidanzata.